Qual è la scelta di vivere in barca? È stata una scelta che in realtà è stata quasi fortuita e legata all'improvviso scoperta del fatto che il mondo della nautica non è un mondo accessibile solamente a chi ha grandi possibilità economiche, ma è la portata veramente di tutti, anche di studenti come me. Immaginate di fare una vacanza, una vacanza bellissima in barca a vela, con la famiglia, con gli amici, a girare e conoscere nuovi posti. Quindi questa mia vacanza per fortuna la posso vivere tutto l'anno, quindi essenzialmente è un modo di vivere in maniera libera, contatto con la natura, poter variare le mie giornate perché ho la possibilità ovviamente di spostarmi di porto in porto quando voglio. Ed è una scelta sicuramente che non ritratto perché è una scelta che ho fatto per l'ambientale a vita. Internet ci aiuta a seguire lezioni a distanza nel caso in cui si è studenti ma anche a lavorare a distanza, quindi è un ottimo mezzo per tutti quelli che un po' nel dubbio non sanno come riuscire a far conciliare l'attività lavorativa con quella quotidiana. Studio medicina, anche se ultimamente essendo appassionata di comunicazione mi sto dedicando anche alla comunicazione perché è ciò che ci permette di trasmettere ciò che proviamo, quindi le emozioni, la propria vita quotidiana e nel mio caso trasmettere anche la passione per il mare. Il salone sicuramente quest'anno è molto particolare perché è stato l'unico che è stato realizzato in Europa nel Mediterraneo, quindi è già una fortuna essere qua ed è una fortuna per il salone essere appunto in atto, è già una grande vittoria. Tutto ciò che si vede comunque è veramente interessante e sì è vero andrò a visitare sicuramente in molti cantieri barche a vela ma ci sono delle novità anche nel mondo dei motori per esempio che possono essere assolutamente applicabili anche alle barche a vela. Cambierai barca o meglio cambierai casa dopo questa visita al salone? Allora la mia barca di sicuro non la mollo se non per ragioni veramente importanti, è una barca molto marina che è diventata famosa in tutto il mondo, l'è conosciutissima proprio per le sue doti marine, è vero anche che se è vero che continuerò a avere questo seguito e la richiesta da parte di molti appassionati di raggiungermi o stare con me, insomma potrebbe anche esserci che viri verso una barca più grande e diversa e che mi permetta di fare molto di più ma per questo insomma vedremo nel 2021 cosa mi riserva.